Un focus sulla realtà della nostra provincia, questo l'obiettivo della visita a Catanzaro del sottosegretario all'interno Carlo Sibilia. Lo spiega in apertura di conferenza stampa il prefetto Francesca Ferrandino, che ha ricevuto l'onorevole Sibilia insieme al suo collega deputato Giuseppe Dippolito e al senatore Gelsomina Silvia Vono, presentatrice di una legge sullo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, oggetto anche di un convegno indetto ad hoc. Il sottosegretario Sibilia ha spiegato che teneva a incontrare le forze dell'ordine, a cui doveva far percepire il governo come loro alleato. Siamo impegnati attivamente, ha spiegato, nella lotta all'Andranghete e a tutte le forme di criminalità organizzata. Abbiamo cominciato alla Calabria, che è un territorio dalle grandi potenzialità meno espresso. L'auspicio è che i comuni sciolti per mafia scendano a zero, ma dobbiamo fare fatti e non chiacchiere, come è stata abitudine fino ad adesso. Se un politico fa apporti con la criminalità organizzata in cambio di voti, ha proseguito, va in galera e buttiamo la chiave. Al di là di tutto, il reddito di cittadinanza regala una nuova speranza. In Calabria i potenziali destinatari ammontano infatti a poco meno di 102.000 ed è proprio una misura per combattere la mafia con il lavoro. In primis il concetto di legalità si ripristina separando i due piani, il piano politico e il piano criminale. Ovviamente con il governo del cambiamento questo lo facciamo non soltanto nelle parole, ma anche nei fatti. Abbiamo aumentato le pene per il 416 ter. Molto spesso prima la vecchia politica si sedeva al tavolo, qualche volta è capitato, con i mafiosi. Oggi noi abbiamo aumentato le pene per chi fa scambio di voto politico mafioso e chiaramente il messaggio deve essere ai cittadini che oggi se un politico fa questo tipo di azione noi lo mandiamo in galera e buttiamo la chiave. Il scioglimento dei comuni è un segnale di spia importante. Se c'è un accesso per qualche comune significa che qualcosa lì effettivamente è una spia di illegalità o comunque di irregolarità. Quindi è bene tenerli attenzionati. Chiaramente non significa poi che se dovesse essere ripristinata la situazione non significa che diamo la patente di legalità a questo comune. Non tutti i comuni hanno un accesso per infiltrazione mafiosa in tutta Italia. Dobbiamo capire che ci sono dei problemi e vanno affrontati in maniera seria con un nucleo di esperti che abbiamo creato al Ministero dell'Interno e chiaramente dare il tempo a queste persone per eliminare l'infiltrazione criminale quando c'è. Quando non c'è chiaramente bisogna anche pensare che quell'irregolarità può essere corretta con le nuove misure che abbiamo messo all'interno del decreto sicurezza perché magari si può anche commissariare un solo settore e non l'intero comune per risolvere la criticità. Ma è chiaro che è un provvedimento secondo me necessario perché bisogna imparare dagli errori fatti nel passato. Anche i commissariamenti fatti nel passato evidentemente oggi non hanno dato risultati giusti. Noi lì siamo al cospetto di assegnazione di servizi sempre alle stesse imprese con la scusa dell'emergenza e questo in tutta Italia a livello di corruzione sanitaria stiamo parlando di 7 miliardi di euro, quindi una cifra astronomica. Bisogna intervenire dando dei poteri ai commissari ma soprattutto dandogli le competenze tecniche. L'articolo 145 ci permette proprio di dare un plotone di tecnici specializzati in gestione managenziale aziendale di aziende sanitarie per risolvere le criticità e da questo dobbiamo imparare e cerchiamo di dare tutti gli strumenti e supportare i commissari perché devono fare un gran lavoro di bonifica. Calabria Maglianera purtroppo ormai anche sotto il futuro delle infiltrazioni mafiose ai comuni. Immaginiamo che al di là di quello che è l'aspetto legislativo ci sia anche un'attenzione sul territorio da parte degli inquirenti, forse all'ordine eccetera. C'è un'attenzione forse nata totale per quello che riguarda l'azione di legalità sul territorio calabrese ma non dobbiamo dipingere la Calabria come qualcosa che non è. C'è un fenomeno che deve essere attenzionato, eliminato, scrostato da quelle che sono delle contaminazioni culturali. Dobbiamo rispettare chiaramente la democrazia, i cittadini, il territorio ma anche le cose positive del territorio. Io ho fatto un viaggio in Calabria dove ho visitato dei beni sequestrati alla mafia, dove c'erano gli enti nazionali sordomuti, dove c'era l'unità alzi. Quindi esempi assolutamente positivi. Per me la Calabria è questo. Quindi la Calabria è anche piccola e media impresa produttiva che sa fare impresa anche fuori dalla criminalità organizzata. Quindi non dipingiamo la Calabria come una criminalità diffusa ma sicuramente un territorio da attenzionare con particolare forza di quello che stiamo facendo. L'incontro di oggi con le forze dell'ordine si è anche soffermato su delle criticità particolari anche in relazione magari a qualche occupazione abusiva di immobili che chiaramente verrà presa in alta considerazione eventualmente per degli sgomberi e comunque per risollevare, ripeto, quelle situazioni incancrenite. Non diciamo nulla di nuovo se diciamo che purtroppo la Calabria ha dei segnali di contaminazione tra politica, andrangheta e massoneria dove queste tre componenti non si capisce dove iniziano e dove finiscono. Siamo qui per mettere certezza e sicurezza e comunque per dare tutto il supporto necessario alle forze dell'ordine e devono capire che nel governo hanno un alleato fondamentale per risolvere queste questioni. Io mi auguro, siccome l'ho seguito in passato nella scorsa legislatura, mi auguro che questa venga vista come un'opportunità per l'Italia di esportare e di affermarsi in Cina. E dove noi abbiamo delle criticità magari trovare nella Cina un partner che possa aiutarci nella gestione magari anche di porti complicati, di complicata gestione, penso a quello di Gioia Toro qui in Calabria. Io mi auguro che ci siano queste partnership positive vedendo nel rapporto reciproco un rapporto commerciale di mutuo vantaggio. È di tutta evidenza che noi ci muoviamo sempre su un rapporto veramente che è sul filo e per questo bisogna rispettare molto il lavoro dei prefetti e di chi si occupa della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata a 360 gradi. Non è sempre facile distinguere nei confini, ma io credo veramente che in Italia abbiamo un'esperienza molto grande e soprattutto che ci deriva da fatti gravissimi che in questa nazione ci hanno scosso profondamente. E purtroppo questo succede sempre quando la politica fa gli affari con la mafia. Non c'è nessun'altra tematica. La mafia diventa forte quando la politica gli dà la possibilità di agire. Ripeto, la nostra azione è tutta assolutamente in antitesi per combattere queste sacche di illegalità e chiaramente farlo nella maniera più giusta per poter chiaramente dare supporto ai cittadini onesti, alla Calabria onesta che ci sono e ce ne sono tanti esempi.